Nel comune di Fano, come in altri comuni marchigiani, è possibile da qualche tempo, al rinnovo dei propri documenti anagrafici, esprimere il consenso, non definitivo, all'espianto di organi in caso di decesso. Da quando è stata istituita questa possibilità ai servizi demografici del comune di Fano, sono state sottoscritte 580 dichiarazioni positive. Andando ad analizzare i dati del 2015 scopriamo che tutta l'area Vasta 1 è una zona virtuosa con 14 donatori, 5 a Fano, 6 a Pesaro e 3 a Urbino, superando il polo anconetano che si attesta solo su 11 donatori, ma contando su ben 4 rianimazioni. Inoltre a Fano, sempre nel 2015, sono avvenute 22 donazioni di rene e 44 corne ed eseguiti nel 2016 già 10 interventi di trapianto corne. Ma di donatori e di donazioni non se ne hanno mai abbastanza, viste le lunghe liste d'attesa di chi spera in un trapianto per allungare la propria aspettativa di vita. Di questo e di altro si parlerà venerdì 27 maggio nella sede della Fondazione Carifano per le giornate nazionali donazione e trapianto a cura del lato Marche. La zona della provincia di Pesaro, che collega l'azienda Marche Nord e l'area Vasta, numero 1, è una delle fornitrici di organi, se possiamo dire così parola, fornitore, delle più alte percentuali. Speriamo che continui ancora. Noi chiediamo quindi ai cittadini di partecipare alla manifestazione che facciamo in occasione della giornata nazionale. Daremo questo libretto dove sono tutte le informazioni perché prima di donare, di iscriversi, prima che la gente sappia che cosa significa il trapianto e che cosa significa la donazione. Noi abbiamo ovviamente investito in questo progetto con la formazione, con l'adozione di software adeguati e collegamento con il centro organi di Ancona, ecco, adottando ovviamente anche formule di promozione sia all'interno degli uffici e quindi degli sportelli di rinnovo e rilascio della carta d'identità, ma costruendo dei percorsi insieme all'ATO, in particolare ad altre associazioni, di promozione di questa importantissima scelta che ogni cittadino, secondo me, dovrebbe fare, di poter decidere di donare i propri organi ad altre persone.